E adesso ho paura, e adesso ho seriamente paura, e adesso concedetemi un po' di paura, perché ragazzi la Juventus che andrà a giocarsi tra cinque giorni la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta è una Juventus che dovrà stare molto attenta, molto attenta a questa Atalanta, perché qui è iniziato a prenderci un po' gusto, due finali di Coppa da giocare per l'Atalanta in questo finale di stagione, e la cosa è estremamente curiosa, proprio perché l'Atalanta è una squadra che in tutta la sua storia ha vinto una Coppa Italia nel 62-63, qualche promozione dalla Serie B alla Serie A, non è una squadra che ha mai collezionato titoli, trofei, e invece diventa la squadra italiana che nella stagione 2023-2024 rischia di vincere più titoli, perché nessuna squadra italiana ne ha 22, l'Atalanta può farlo, e può giocarsi il primo match point tra cinque giorni contro la Juventus. È un problema, è un problema grosso, perché io credo che Gasperini, per quanto lui abbia portato avanti questa narrazione del non serve un trofeo per essere vincenti, e io sono d'accordo in parte, perché per me Gasperini non è un perdente, ma non è nemmeno un vincente perché non ha mai vinto, ho scritto un articolo su questa cosa qui a difesa delle parole di Gasperini, ma cercando anche di mettere i puntini sulle i. io credo che questa cosa la soffra, e la soffra tanto, e abbia la volontà di aggiungere un trofeo a una carriera che veramente, dal punto di vista del campo, quindi dell'allenatore, del mestiere che fa, è una carriera di altissimo livello, è inutile parlano i risultati per lui, parla quello che ha fatto, è una carriera che molto probabilmente arriverà alla conclusione con l'Atalanta, proprio in questa stagione qui, con magari un trofeo ad aggiungere alla bacheca, e poi inizierà una nuova parte di carriera a Napoli, può essere, può non essere, si parla tanto di Gasperini al Napoli, chissà, potrebbe concretizzarsi questa opzione, io sul Napoli un giorno leggo che è fatta per Conto, un giorno leggo che è fatta per Pioli, un giorno leggo che è fatta per Italiano, un giorno che leggo che è fatta per Gasperini, o a Napoli i giornalisti non sanno niente, o dentro la dirigenza non sono ancora proprio completamente convinti di quello che sarà l'allenatore ad andare a prendere, ma tornando un po' più in topic, Gasperini contro Allegri e Gasperini contro Sabia Alonso sono due sfide super affascinanti, eh ragazzi? Perché da una parte, rimanendo nei confini italiani, abbiamo l'allenatore che ha vinto tanto contro l'allenatore che non ha mai vinto, proprio di trofei, di titoli, la squadra che ha vinto il maggior numero di Coppa Italia in Italia contro una squadra che ne ha vinta una troppi anni fa, ormai decisamente 50 anni fa è rotti, di più. Quindi siamo veramente agli antipodi. E paradossalmente l'Atalanta per me è la squadra favorita per la finale di Coppa Italia. Da noi mancherà Locatelli, per squalifica, da loro Scamacca, a noi molto probabilmente si aggiungerà l'assenza di Danilo, vedremo chi giocherà al suo posto, vedremo chi giocherà al posto di Locatelli, una Juventus che dovrà per forza di cose fare i conti e con qualche assenza l'Atalanta, l'assenza di Scamacca, riuscirà benissimo a riassorbirla. Anche perché anche ieri sera poi Touré, che segna al 3-0, sembra un giocatore che è stato fuori per tutta la prima parte di stagione, tra l'altro con un infortunio subito proprio contro la Juventus a Cesena nello 0-0 di Ferragosto, mi pare. Proprio il giorno di Ferragosto. È tornato in campo ormai da un mesetto abbondante, quindi si è perso la prima parte di stagione, e vorrà cercare di dare un senso alla seconda parte. Con un De Ketelare, che è diventato un giocatore vero e che l'Atalanta andrà a riscattare. Con Lukman, che è sempre sottovalutatissimo, ma per me fondamentale. Con un Ruggeri, che ieri sera segna anche il gol del 2-0. Con un Copmeiner, che è un po' il sogno bagnato della Juventus ed è uno degli obiettivi principali di Giuntoli per questa estate. Con un Deron, che zitto zitto, alla fine lui Bergamo, l'Atalanta, la sua Dea, sta veramente facendo cose incredibili. Un Ederson, che è un centrocampista di cui si parla veramente pochissimo, ma che anche la Juventus sarebbe fondamentale. Uno Scalvinica, un valore di mercato altissimo. Un Carnesecchi, che è forse il prospetto italiano di riferimento oggi, anche se ieri sera ha giocato Musso. Cioè, l'Atalanta, come la guardi la guardi, e non ne ho citati tantissimi altri, Scamacca, che adesso sta facendo benissimo in questo finale di stagione, eccetera, eccetera. Ma come la guardi la guardi, è una squadra che ha dei giocatori molto importanti. Dei giocatori che veramente possano decidere di tirare partita con una giocata, a maggior ragione inseriti all'interno di un contesto come quello dell'Atalanta. Un contesto organizzato e fisico come quello dell'Atalanta. Quindi sono molto preoccupato per la finale di Coppa Italia. Molto preoccupato. Anche perché qui si rischia, perché l'Atalanta è qui che fa imprese su imprese, che scrive pagine di storia su pagine di storia, goleade su goleade, dimostrazioni su dimostrazioni. Noi andiamo da 14 punti in 14 partiti e siamo qua che diciamo, cavolo, la prossima in casa con la Salernitana, almeno quella con la Salernitana, cerchiamo di vincerla. Cioè è proprio una differenza di motivazioni e di come ci arrivi a giocare quelle partite lì. E queste cose poi fanno la differenza, perché io credo che nel calcio una sola squadra ci abbia dimostrato che poi in campo ci va la storia, la tradizione, i trofei, eccetera, eccetera, è il Real Madrid in Champions. L'unica squadra che io abbia mai visto vincere grazie alla storia, che è una cosa che trovo insensato dal punto di vista dell'analisi sportiva, ma poi per il Real la devo prendere in questa situazione, è il Real Madrid in Champions. Non ci sono altre squadre. Quindi paradossalmente l'Atalanta è la favorita per me nella Coppa Italia e la Juve deve stare molto attenta, perché rischia veramente di fare, non solo di perdere, ma di fare anche una brutta figura. Dall'altra parte in Europa, ecco, già il fatto che Gasp vada a giocarsi una doppia finale è qualcosa di clamoroso, ma una finale anche europea, una vecchia Coppa UEFA, un'Europa League, tra l'altro secondo anno di fila, giusto, che un'italiana va a giocare una finale di Europa League, considerando anche la finale dell'Inter di qualche tempo fa, iniziano ad essere tante le finali di Europa League raggiunte dalle italiane, in realtà con la doppia di conference della Fiorentina l'anno scorso o quest'anno, l'Inter l'anno scorso di Champions, iniziano ad essere tante le finali dell'italiana, aggiungendo anche le due della Juve di Champions, ma nessuna italiana poi ha vinto, tranne la Roma, nella finale di conference del primo anno di Mourinho. Ecco, quindi, chissà che uno tra italiano e Gasperini possa riuscire a invertire questa tendenza puramente negativa, nonostante la Serie A sia uno dei campionati migliori dal punto di vista del ranking europeo, e la vittoria dell'Atalanta andrebbe a dare spazio addirittura a sei squadre in Champions League, perché se l'Atalanta arriva a sesta e arriva in Champions League e vince la Coppa UEFA arriva comunque in Champions League e addirittura le Napoli danno nuova in conference, una roba un po' particolare. Queste sono le nuove coppe, i nuovi raking, i nuovi gradini d'accesso dove metà di una Lega va a giocare una competizione europea, cosa che io non condivido, ma vi ho già spiegato mille volte, che dovrebbero essere competizioni più elitarie secondo me, quindi quelle che arrivano veramente ai piani alti si qualificano, invece qua ormai prendendo dentro cani e porci, vabbè, queste sono considerazioni mie e personali, non è detto che debbono essere condivise. Però dall'altra parte abbiamo l'Atalanta, quindi Gasperini, quello che una finale non l'ha mai vinta, ma potrebbe arrivarci con il primo trofeo in carriera a giocare quella finale, e potrebbe essere la finale Coppa Italia, contro Xabi Alonso, che è l'uomo dei miracoli, è veramente l'uomo dei miracoli, che quest'anno invece col Barrile Vercusen non ha mai perso. Ieri sera va sotto di 2-0 con la Roma, quando fa il 2-1, l'autogol di Mancini, poteva essere sufficiente per passare il turno, eppure no, riescono comunque a non perderla, e fare 49 partite di fila senza perdere, 49 risultati utili competitivi, sì, vabbè, ciao, risultati utili consecutivi, 49, cioè è talmente tanto folle che il mio cervello si è rifiutato di dirlo, si è impappinato, col Bayer Leverkusen, che non aveva mai vinto, e va a vincere la Bundesliga, di fronte al Bayer Monaco, che ha 12 anni, che vinceva almeno un trofeo, e quest'anno Tuchel rimane a bocca asciutta, e un Borussia Dortmund, che è di rifo di Rafa, arriva addirittura in finale di Champions, cioè il lavoro che ha fatto Xabi Alonso, e il coraggio della decisione di Xabi Alonso, di rimanere a Bayer Leverkusen, ragazzi è qualcosa di mostruoso, che di cui in Italia si parla veramente troppo poco, quindi ogni tanto due parolini, anche se extra Juve spendiamole, perché qui si sta veramente scrivendo delle pagine importantissime dello sport che amiamo, quindi anche lì è una bellissima partita, una bellissima diatriba, fantastico, fantastico, poi secondo me l'Atalanta, l'Europa League non la vincerà, sono sincero, per me l'Atalanta e l'Europa League non la vincerà, se Gasperini dovesse riuscire a fare questa roba qui, immaginatevi, se la Juve vince la Coppa Italia, ma l'Atalanta vince l'Europa League, sarebbe lo scenario più complicato per me, perché il mio pronostico è appunto, Atalanta campione della Coppa Italia, e Bayer Leverkusen campione dell'Europa League, questa è la previsione che vado a fare, ma il calcio ci ha insegnato che non ha senso queste previsioni, perché tutto può succedere, termino dicendo che l'Atalanta, che non si era mai trovata in questa situazione, di dover gestire, giocare nei top giorni, addirittura l'Atalanta fiorentina, che è da recuperare, è una partita importantissima per la qualificazione Champions, delle altre squadre, verrà giocata a giugno, probabilmente ha tutto terminato, perché non c'è più fisicamente spazio, nel calendario, con buona pace anche di De Rossi, che forse dovrà tifare Atalanta in finale d'Europa League, per cercare di raggiungere comunque anche lui, la qualificazione in Champions, quindi l'unica speranza è che già hanno speso tanto ieri sera, avevano speso in campionato quella prima, avevano speso all'andata col Marsiglia, domenica hanno una partita importantissima con la Roma, che è una partita veramente fondamentale per la Corsa Champions di quest'anno, che possano arrivare a mercoledì un po' più appesantiti, loro sono qui che fanno il tour de force, avanti e indietro, in giro per l'Italia e per l'Europa, a giocare partite su partite, noi è una settimana che siamo a casa, sul divano, a guardare quegli altri, e dobbiamo preparare una partita con la Salernitana, ecco io mi auguro veramente che in questo momento venga fuori sta roba qui, perché io per tutto l'anno ho sentito che fare le coppe e non fare le coppe è la stessa cosa, non cambia niente, non è che hai dei benefit a non fare le coppe, no è la stessa roba, è tutto uguale, ecco questi giorni qui, queste settimane qui dovrebbero confermarci invece che non è vero, che non è vero che più partite hai e il tempo si riduce e le competizioni devono terminare, devi tutto comprimere, a maggior ragione una squadra come l'Atalanta, un allenatore come Gasperini, che a queste fasi finali della stagione non sono abituati a gestire tutti questi impegni, è una squadra che è abituata invece ad andare sempre 100 all'ora contro di noi, che per una settimana abbiamo preparato solo la Salernitana, io non risponderei delle mie azioni, se la Juve non vince con la Salernitana vado veramente fuori di melone, vado veramente fuori di testa, impazzisco, impazzisco, quello è il risultato necessario, io credo difficilmente, dato che so che il calcio è uno sport, difficilmente obbligo una squadra a vincere, ma dopo 14 punti in 14 partite, giochi in casa contro una retrocessa da dicembre, e ti servono 3 punti per qualificarti alla Champions e toglierti un peso enorme, le motivazioni sono tutte dalla tua dopo una settimana che prepari solo quella, se non vinci quella partita lì, se non vinci quella partita lì, guarda, non voglio neanche immaginare cosa possa succedere, e poi c'è la finale di Coppa Italia, provate a immaginarci, arrivarci anche senza i tre punti con la Salernitana, provate a immaginare, arrivare lì, dopo aver fatto uno a uno con la Salernitana, e con quelle altre che magari ti hanno accorciato dietro, e poi la settimana dopo vai a giocare a Bologna contro Tiago Motta, io non voglio arrivare in uno scenario del genere, non voglio, perché ci siamo giocati tanti jolly, abbiamo fatto un giro di ritorno vergognoso, eppure siamo lì che ce ne bastano 3 per qualificarci, battete la Salernitana, per l'amor di Dio vi scongiuro, questa è un po' la paura che parla, quando arrivi a questi punti la paura del tifoso, per forza di cose è concreta, la mia paura per la finale di Coppa Italia è concretissima, perché Gasperini veramente sta cucinando un capolavoro in quel di Bergamo, e secondo me merita una statua davanti allo stadio per eterna memoria, fatemi sapere un po' cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e come sempre, forza Juventus!